Musica Vicenza blindata per i cortei di domani, centri sociali e comunità palestinese contro la presenza israeliana in fiera. Musica Manifestazioni, i commercianti di Vicenza preoccupati, prioritario rispettare la città, no a eventuali disordini. Musica Parcheggio Verdi più sicuro, da lunedì al via la presenza di due vigilantes armati ogni sera. Musica Operazione Strade Sicure, torna l'esercito per presidiare Campomarzo assieme alle forze dell'ordine. Musica Piovene Rocchette, ciclista finisce tra le ruote di un tir, è ricoverato in gravi condizioni. Sovizio Gambugliano, via libera la fusione, arriva il commissario prefettizio. Musica Tg Vicenza ben ritrovati ma soprattutto benvenuti. Benvenuti in questo nuovo studio, un regalo per tutti voi telespettatori dal gruppo Media Nordest. Ora iniziamo con il nostro telegiornale. Oggi primo giorno della settantesima edizione della fiera dell'oro di Vicenza e domani in programma cortei di protesta contro la partecipazione del padiglione israeliano. Sentite il servizio. Il giorno della protesta, il boom dei cortei. Domani si scateneranno le contestazioni contro Israele e il fulcro sarà Vicenza. Oggi alla vigilia della grande manifestazione c'è tensione nell'aria. Sotto a un cielo grigio in una città bagnata dalla pioggia fitta, sottile, incessante, viene inaugurata Vicenza Oro che festeggia i 70 anni. Il piano di sicurezza è già scattato. Il quartiere della fiera è sotto stretta sorveglianza da parte delle forze dell'ordine. E domani Vicenza sarà blindata per la doppia manifestazione annunciata dai centri sociali del nord-est e dalla comunità palestinese. Obiettivo contestare la presenza di Israele alla fiera dell'oro. Gli espositori di qualsiasi paese sono benvenuti all'interno della fiera di Vicenza perché Vicenza è una città aperta. A fianco a questo confermiamo che ci associamo all'appello dell'ONU, dell'Unione Europea, di tantissime realtà internazionali che stanno chiedendo un cessato al fuoco su Gaza, che si fermino le violenze nei confronti dei civili, che chiaramente vengano rilasciati gli ostaggi e che finalmente in Israele e Palestina ci possa essere la pace. Il primo corteo con gli attivisti del bocciodromo domani si muoverà alle 10.30 da Via Rossi verso la fiera. Obiettivo dichiarato degli antagonisti bloccare il padiglione israeliano dedicato ai diamanti, settore in cui Israele è tra i leader mondiali. La questura ha però fissato delle prescrizioni e gli antagonisti dovranno rimanere a un'adeguata distanza dalla fiera. Il corteo si concluderà poi davanti all'anfiteatro di Via Baracca, una manifestazione su cui il centrodestra è fortemente critico. In questo momento in cui la città è praticamente ferma rispetto al tema della viabilità e per il traffico, anche legato alla manifestazione della fiera dell'oro in città, è necessario intervenire evitando questo tipo di manifestazioni. Quindi andavano evitate. La seconda manifestazione prenderà vita invece alle 2 del pomeriggio con la comunità palestinese, che pure contesta la partecipazione a Vicenza Oro di Israele. In questo caso partenza dal piazzale della stazione ferroviaria di Vicenza per poi percorrere Viale Roma e concludersi in Via Baracca. Ovviamente tutto l'asse di Viale Sant'Agostino sarà bloccato e il traffico in una giornata come quella di domani rischierà di impazzire, paralizzando parte della città. L'auspicio chiaramente è che le manifestazioni siano pacifiche. Prefettura, Forza dell'Ordine stanno seguendo con attenzione l'organizzazione delle manifestazioni di domani. Rimaniamo sull'argomento, perché anche se le forze dell'Ordine hanno predisposto un piano di sicurezza, alcuni commercianti mettono in discussione l'opportunità di autorizzare la protesta. Sì, c'è una certa preoccupazione e io credo che questa guerra tra palestinesi e Israele vada avanti da anni e anni e quindi non credo che sia il momento giusto per andare a bloccare una fiera, che è una delle più belle al mondo e soprattutto per una questione di rispetto. Noi rispettiamo le due fazioni, ammesso che ci sia un rispetto per la guerra e loro devono rispettare le nostre istituzioni, i nostri imprenditori. Diciamo che le guerre sono da evitare in ogni caso, quindi se la manifestazione si svolgerà in maniera pacifica, ripeto, è giusto che ognuno esprima la propria opinione, se invece dovesse sforzare in atti di violenza, allora lì sicuramente non sono d'accordo. Sperando che non succedano disordini, perché domani è sabato e ci sono tante famiglie in giro, tanti bambini che vanno a giocare nelle piazze principali di Vicenza e non succedano qualche catastrofe o qualche incidente particolare. Spero che si risolvere in migliore dei modi e che ognuno fa la propria scelta. Speriamo che sia una manifestazione pacifica, come che in teoria dovrebbe essere. Non vedo un motivo perché sia violenta, tutti abbiamo diritto di manifestare e ognuno ha le nostre idee. Personalmente sono positivo, spero proprio che non ci sia un grande disagio. Speriamo che non sia uno scontro, speriamo che sia una manifestazione solidale anche, diciamo, verso un popolo, però diciamo che mantenga sempre le giuste distanze e la giusta democrazia. Uno è libero di protestare, ma sul marciapiede, di modo che consente a tutti di poter fare il loro lavoro e guardare e prendersi conto che a volte qualcuno può avere anche le idee, o come le nostre o diverse dalle nostre, ma non disturbare l'ordine pubblico. Intanto sono contrari a queste manifestazioni, specialmente nel momento di Vicenza Fiera dell'Oro, perché è importante per il tessuto del Veneto e della nostra città. Perciò queste manifestazioni, io so che non si può dire, non si può manifestare, però non è giusto. Non rispettano niente, non rispettano la città, non rispettano chi viene da tutto il mondo per venire a Vicenza, a Vicenza Oro. E ora torniamo a parlare del parcheggio Verdi di Campo Marzo. Ci sono novità. Il parcheggio Verdi sarà rinnovato e meglio sorvegliato. L'amministrazione comunale presenta un progetto a step successivi che andranno a riqualificare complessivamente l'area di sosta coperta di Campo Marzo. L'intervento prevede un investimento importante, un investimento di circa un milione di euro complessivamente. Il primo intervento è sicuramente sulla sicurezza, il secondo sarà su degli interventi di manutenzione straordinaria e dopo l'intervento, quello diciamo un po' più impegnativo, prevede un revamping sia sui sistemi di sicurezza passivi, quindi tutta una sistematologia di sicurezza, e un intervento di revamping proprio strutturale, quindi sulla struttura del parcheggio, per renderlo più gradevole. Prioritario per il Comune rispetto all'ammodernamento della struttura, elevare il prima possibile il livello di sicurezza. Da lunedì prossimo, infatti, già due guardie giurate armate vigileranno la struttura dal pomeriggio fino alla mezzanotte. Gli ingressi verranno progressivamente chiusi e automatizzati, per consentire solo agli utenti l'accesso. 400 posti auto che sono utilizzati solo in parte e che se riuscissimo a utilizzare in maniera più completa, davvero darebbero una risposta alla necessità di sosta di quell'area del centro storico, ma anche per l'accesso alla stazione. E' anche un tassello di sicurezza che va a integrarsi con la nostra idea progettuale che stiamo portando avanti, di ampliamento del parco dell'ippodromo, con una recinzione più ampia, che sicuramente allontanerà ancora di più i comportamenti non corretti che ci sono in quell'area. E con la cronaca rimaniamo in Campo Marzo. La polizia ha individuato unganese con precedenti penali ed è stato portato in carcere al Sampio X. Campo Marzo. L'esercito torna a presidiare il parco di Vicenza, un polmone verde che negli anni è diventato l'outlet veneto della droga. Il Ministero dell'Interno ha definito la ripartizione di 6.800 militari che nell'ambito dell'operazione Strade Sicure garantiranno controllo e vigilanza, in coordinamento con le forze dell'ordine, in diverse città italiane. A Vicenza sono stati assegnati 15 soldati che vigileranno la zona di fronte alla stazione ferroviaria. Intanto, proprio a Campo Marzo, questa notte, gli agenti della squadra volanti della Questura hanno notato unganese di 22 anni e lo hanno fermato per controllare la sua posizione. E così è emerso che lo straniero risulta aggravato da un'ordinanza di custodia in carcere adottata dal Tribunale di Treviso per le ripetute violazioni agli obblighi a cui era sottoposto in seguito alle accuse di violenza sessuale. Durante gli accertamenti la Polizia di Stato ha scoperto che ilganese aveva anche una tessera sanitaria e alcune carte di credito provento di furto. Per questo è stato denunciato per ricettazione e poi portato nel penitenziario di Vicenza. Ancora a cronaca, un ciclista è stato travolto da un tir a Piovene Rocchette. Piovene Rocchette è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Sant'Orso con lesioni al braccio e al torace. Un residente di 46 anni finito con la bicicletta tra le ruote di un tir. L'incidente è accaduto poco prima delle 12 in via Roma in direzione Velodastico. Una lunga colonna di auto e mezzi pesanti si era formata a causa del traffico. Durante una delle ripartenze l'autista a 48 anni di un auto articolato Volvo non si sarebbe accorto della presenza del ciclista investendolo con la ruota anteriore sinistra. Sul posto per i rilievi e accertare la dinamica del sinistro, tre pattuglie di polizia locale Alto Vicentino. Ci spostiamo ora a Poianella di Bressanvido, incendio in un'abitazione. Bressanvido ha tanta paura ma fortunatamente nessun ferito nell'incendio scoppiato sul tetto di un'abitazione di via Bosco in località Poianella. Le fiamme si sono sprigionate nella tarda serata di ieri nei pressi della canna fumaria e si sono estese successivamente al tetto ventilato dal caseggiato. L'arrivo tempestivo in massa dei vigili del fuoco ha consentito di evitare che le fiamme distruggessero l'abitazione. 19 pompieri giunti con tre autopompe, tre autobotti e l'autoscala hanno permesso di circoscrivere il rogo ad una sola falda del tetto. Le cause dell'innesco sono al vaglio dei tecnici. La famiglia residente evacuata ha trovato ospitalità per la notte presso alcuni parenti. Lunedì 22 gennaio nascerà ufficialmente un nuovo comune frutto della fusione di Sovizio e Gambugliano. Via libera alla fusione amministrativa di Gambugliano e Sovizio. Dalle lunedì prossimo ufficialmente nascerà il nuovo comune denominato semplicemente Sovizio che accorpa i due territori fino ad allora suddivisi. Un'unione amministrativa che porterà in dote complessivamente 12 milioni di euro di contributi straordinari statali che incentivano la fusione dei comuni minori. E' la quinta unione nel Vicentino dal 2017 data di nascito del comune di Valliona seguita da Barbarano Mossano, Colceresa, Lusiana Conco e Valbrenta. I comuni della provincia di Vicenza attualmente sono 113. A Sovizio arriverà dunque un commissario prefettizio che si occuperà della gestione ordinaria fino all'insediamento della nuova giunta eletta regolarmente. Garantita la prosecuzione dei lavori delle opere pubbliche già avviate, in particolare quelle finanziate dal PNRR. Ad assistere il commissario un comitato consultivo composto dagli ex sindaci Paolo Garbin e Matteo Forlina. Sabato 27 gennaio, giorno della memoria e la rete delle biblioteche vicentine lancia una serie di iniziative per non dimenticare. Giorno della memoria. Sabato 27 gennaio verrà ricordato quando, lo stesso giorno del 1945, l'esercito sovietico entrò nel campo di concentramento di Auschwitz, scoprendo e rivelando al mondo l'orrore della Shoah. Perché non ricapiti, perché non ci sia mai più l'intransigenza di un regime che decide chi ha diritto di parlare e chi no. Quali sono le categorie da perseguitare? Contro il veleno di un pensiero unico, dispotico, intollerante, antidemocratico, che ha infettato durante l'Olocausto la mente di interi popoli, c'è un solo antidoto, la cultura, la conoscenza, la memoria. Ma non quella superficiale, quella usa e getta che troppo spesso regna sovrana sui social, ma quella radicata, profonda, che è nei libri, che si può maturare negli incontri con i testimoni, o con mostre, convegni, spettacoli teatrali, cinematografici, concerti. Sono oltre 40 gli eventi in cartellone previsti dalla rete delle biblioteche vicentine. È stato un periodo buio della nostra storia, però Primo Levi l'ha detto, ha detto è accaduto e può succedere ancora. E quindi noi dobbiamo essere vigili e presidiare, continuare a raccontare, continuare a stimolare l'approfondimento e la lettura. La lettura, la conoscenza, la cultura rendono liberi. Quindi questo è il concetto fondamentale che con questa iniziativa vogliamo promuovere. Vogliamo invitare giovani, ma non solo, a leggere, a documentarsi, affinché queste giornate non siano solo una celebrazione rituale, ma diventino motivo di approfondimento, affinché ognuno si possa creare una propria opinione. Quindi iniziamo una settimana prima e speriamo di poter continuare tutto l'anno con un invito alla lettura. Non dovete neanche necessariamente acquistare i libri, potete prenderli nella nostra rete bibliotecaria, fornitissima, diffusissima nel sud del territorio vicentino. La cultura, la lettura rendono libri. E ora spazio ai vostri presepi. E con i vostri presepi chiudiamo il nostro telegiornale, ma vi ricordo che questa sera, in prima serata, torna alla grande attualità, vista dal Veneto, ma soprattutto dai Veneti. Con Focus, ospiti del nostro direttore Uligi Bacialli questa sera, Luca Belotti, Giuseppe Marra, Ivan Palasgo, Alberto Stefani, Massimo Venturato e Francesco Vianello. Da Vicenza è davvero tutto, vi lasciamo ora le previsioni del meteo. Grazie per averci seguito, una buona serata a tutti.